Oggi è andata male, il doppio purtroppo, però ottavano una volta che torno qui a Caltanissetta e sono contento che ogni anno c'è qualcosa che è stato migliorato insomma è bello trovare sempre persone e condizioni sempre migliori in questo torneo che non dico che sono di casa ma quasi anni fa forse non li consideravo piatti conosciuti come gli arancini, la pasta alla norma, i cannoli però ormai sono cose abbastanza comuni che ordino e cerco venendo qua